Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 20 dicembre, fra poi è un vacanza e peccato che la politica in vacanza ci va da poco secondo me, dovrebbe andarci un pochino di più, adesso sto esagerando ovviamente perché in realtà uno si lamenta, i politici dovrebbero lavorare di più e dovrebbero fare più cose, però insomma oggi a leggere i giornali c'è tutto questo chiacchiericcio della politica perché quello che è successo, ve lo dico semplice semplice, è che una volta che hanno approvato questa legge finanziaria che oggi chi è che la dice? La dice mi sembra un'intervista a Zingaretti, dice aspetta 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 chi è che l'ha detta? Ecco abbiamo fatto una manovra finanziaria in cui abbiamo evitato l'aumento delle tasse, la banca rotta, il primo risultato ottenuto di questo governo, abbiamo evitato l'aumento delle tasse, ma questi vivono sull'iperuraneo, Zingaretti oggi un'intervista che poi vedremo sarà politica, dice che hanno evitato l'aumento delle tasse e la banca rotta di questo paese, toc toc Zingaretti ma quale banca rotta? Ma smettetela di evocare questa idea della banca rotta, non c'è nessuna banca rotta, in banca rotta sono i conti dei politici, sono i politici in banca rotta come vedremo tra poco, tra l'altro è piuttosto singolare che oggi sul Corriere della Sera Zingaretti ci spieghi che hanno evitato la banca rotta e hanno evitato l'aumento delle tasse e sul giornale e sul Libero ma anche direi con un comunicato stampa ieri, quindi sono due interpretazioni vaghe di quotidiani diciamo di centrodestra, una grande multinazionale come la Coca Cola ha stabilito, ha deciso o ha minacciato, ognuno può pensarla come gli pare, secondo me semplicemente sta razionalmente ragionando sul fatto di non investire più 49 milioni di euro in un paese che in una botta sola tassa la Coca Cola come sugar tax e come imballi, ecco in un'azienda che in questi anni ha sempre dimostrato di essere molto più italiana di quanto immaginano questi che ci governano, perché c'è i distributori in Italia, l'imbottigliamento in Italia, le fabbriche in Italia, una di queste, mi sembra che lo citi Libero, una di queste fabbriche marcianise nel sud potrebbe essere chiusa secondo questi geni che invece oggi sul Corriere della Sera Zingaretti, segretario del PD, ci dice che questo governo ha evitato l'aumento delle tasse e la bancarotta, io dico veramente in che mondo vivono, vivono in quello straordinario della politica in cui Zingaretti invece un messaggio oggi al Corriere della Sera, è una bugia che abbiamo appena sentito, ma anche un messaggio che spero sia un po' più, che riesca a tenere la vita più di una settimana, come Zingaretti raramente fa con i suoi messaggi, e cioè dire che se cade il governo Conte, cade questo governo. Conte di fatti è diventato un punto di riferimento della sinistra, ci dice Zingaretti. Ci fidiamo di Zingaretti? Io direi insomma che forse non ci si può fidare molto del Saponetta, perché aveva detto e aveva promesso che si sarebbe andata alle elezioni e mai con il Movimento 5 Stelle, video su video, è stato eletto segretario del PD dicendo che non sarebbe mai andato a fare un governo con i 5 Stelle e poi ci lo troviamo che dice che Conte è un punto di riferimento della sinistra e governa con il Ministro degli Esteri Di Maio, Di Maio. Allora, volete voi credere al fatto che questo e cade questo governo si voti? Come dice oggi Zingaretti? Bah, lo dice oggi, vedremo domani. Polito nel frattempo ci racconta che sono state fatte 6 leggi elettorali in 30 anni, si fanno al solo scopo di favorire nelle successive elezioni i partiti che se le inventano. In realtà, aggiungiamo noi, non sempre gli va bene a questi partiti che si inventano queste leggi elettorali perché poi vengono anche fregate dalle stesse leggi elettorali. Nel frattempo Ezio Mauro su Repubblica ci spiega una cosa che non mi è del tutto chiara, cerchiamo di capirla insieme, perché lui parte da una premessa, l'antipolitica ha mangiato se stessa, nel senso che non so cosa voglio ben dire, ma comunque l'antipolitica ha prosciugato lo stagno da cui lei è nata. E poi dice, e quindi siamo arrivati alla fine dell'era populista. Vedete, io non so se questa, diciamo, a dire che i populisti siano antipolitici sia la stessa cosa? Cioè mi sembra un passaggio logico, io mi ricordo i pezzi del Corriere della Sera, i pezzi degli ottimi Gian Antonio Stella e Rizzo che scrivono e fanno il vice direttore proprio di Repubblica a parlare della casta e cioè alimentare l'antipolitica, ma quell'antipolitica, scusatemi, non c'entra nulla con i cosiddetti populisti leghisti ad esempio, forse con quelli grillini un pochino, ma i grillini non mi sembrano che abbiano mangiato se stessi i posti che stanno governando oggi, ma insomma se Ezio Mauro vuol dire che l'antipolitica e i populisti sono la stessa cosa, avanti, tanto chi mai lo contesterà. Intanto il secondo grande tema di giornata resta questa minchiata incredibile che noi mandiamo a processo probabilmente un ex ministro degli interni perché ha tenuto quattro giorni a largo per sequestro di persone. Io le dico a tutte le persone, anche intelligenti, ne ho visti tanti amici anche su internet che dicono ma come, ma di che ci scandalizziamo e Salvini esagera, è un populista, in realtà diceva ho difeso i confini nazionali, ma come su quella nave che è una nave in cui c'erano cento disperati ma che hai difeso e poi quella nave era una nave militare ma non fare l'eroe. Però a questi stessi che dicono a Salvini di non fare l'eroe e che quella è una nave militare, che vuoi che siano quattro giorni, io dico intanto va bene, lasciamo perdere il principio generale, che uno può credere o non credere, cioè che rendendo l'Italia un posto inospitale per i clandestini probabilmente si evitano di far arrivare attraverso pull factor nuovi clandestini. Ma lasciamo perdere questo, ma tanti amici che criticano il populismo verbale di Salvini attaccandola e prendendolo in giro, ma vi sembra normale che il ministro degli interni italiani rischi 15 anni di carcere e solo lui per un atto, ovviamente condiviso dal governo soltanto un anno prima su un'altra nave, vi sembra normale? E vi sembra normale che si possa attribuire a Salvini sequestro di persone quando il popolo italiano con i suoi soldi e con l'autorizzazione del ministero degli interni ha portato viveri e ovviamente tutta l'assistenza sanitaria possibile in quelle navi? Vi sembra possibile che la procura ha chiesto di archiviare questa vicenda e il tribunale ha detto di no? Vi sembra possibile che Di Maio e Conte hanno detto siamo tutti responsabili fino ad un anno fa e oggi invece sulla medesima, identica cosa dicono di non essere responsabile? A tutti quelli che danno del populista e del quacquaraquà a Salvini, non pensate di aver utilizzato voi, come spesso fanno tanti altri gli inciampi giudiziari a vostro favore, siamo tutti bravi a usare gli inciampi giudiziari a favore del nemico, in questo caso secondo me Salvini ha ragione da vendere, dice una cosa surreale, dice sarei curioso di finire in aula, ma i miei avvocati me lo sconsigliano, idealmente quel processo è a milioni di italiani che sono totalmente d'accordo con lui, di sequestrata nel frattempo la nave di Carola, perché questa è la giustizia italiana, se una nave, la Sea-Watch 3, cerca di speronare ed è innegabile una... cioè secondo voi se col vostro motorino, ma porca puttana, cercate di andare addosso col motorino, non col 100 tonnellate, con il motorino contro una pattuglia dei carabinieri, quel motorino quanto cazzo di tempo ve lo tengono sequestrato? E voi quanti processi subite per aver cercato di investire con un motorino una pattuglia dei carabinieri? No, no, ma pensateci un attimo, toc toc, quanto tempo ve lo tengono in sequestro il motorino? La Sea-Watch? No, la Sea-Watch? No, anche perché ovviamente lì c'era caro la racchetta e la super applaudita dal Parlamento europeo di Maio o Micchio, dice un titolo molto duro del giornale sul fatto che ci sia questo processo. Intanto ci sono dubbi, secondo i retroscena dei giornali, anche di Italia Viva, quella di Renzi, nel dare l'ok all'autorizzazione di procedere che ci sarà il 20. Nel stesso tempo l'associazione della Carfagna, il grande movimento politico della Carfagna, perde un suo presidente onorario che è Antonio Martino, che io conosco molto bene, a cui voglio bene e quindi insomma sono ben felice che non si intruppi in cose che sono complicate da raccontare a quelli che, come Martino, oggi si occupano un po' meno di politica, ma la cosa incredibile che io consiglierei forse dalle parti di Arcore, non a quelle di Carfagna questa volta, uno dei primi tesserati di Forza Italia, quello che ha portato la flat tax in Italia, il programma economico in Italia che ha fatto ottimamente il ministro degli esteri e il ministro della difesa, come Antonio Martino, converrebbe che quando alza il telefono, care segretari onorevoli del Cavaliere Berlusconi d'Arcore, se il presidente sta ad Arcore e Martino fa una telefonatina ad Arcore, conviene che glielo passate o conviene che glielo fate richiamare, se no Martino ve lo perdete o ve lo siete già perse, fenomeni di badanti del Cavaliere Berlusconi, maschi, femmine, donne, non lo so, quelle che magari lo fanno pagare con qualche mafioso calabrese, ma un po' meno con i fondatori di Forza Italia, come è Martino. Bene, nel frattempo il messaggero ci dice che alcuni altri deputati, senatori del Movimento 5 Stelle potrebbero andare nella Lega creando un bel casino al Senato, mentre al Senato della Repubblica Americana ci sarà un bel casino sull'impeachment di Trump perché lì le maggioranze sono un po' diverse e questo Mitch McConnell, il presidente, il senatore repubblicano che è capo e leader dei repubblicani, sapete che cosa dice? Dice beh insomma farò la mia parte e sarò di parte perché è tremendo quello che stanno facendo a Trump, tra l'altro lui non è un trumpista della prima ora, ma la cosa straordinaria in tutto l'impeachment di Trump e come i giornali italiani Trump lo considerano già un impicciato, cioè Trump gli piace questa cosa che gli facciano l'impeachment perché è come il processo a Salvini, Salvini di fatti qualche giornale si paragona in maniera un po' immodesta a Trump, però insomma quando l'avversario può utilizzare strumenti diversi rispetto a quelli delle elezioni per fottere chi oggi ha preso la maggioranza degli italiani, lo trovo fantastico. Vi ricordate quella cosa di Sondrio, dell'ospedale di Sondrio di cui io stesso ieri mi ero lamentato dicendo il razzismo, ha fatto bene la Meloni a rispondere, tutte quelle polemiche là, in realtà quell'aspetto di Sondrio reggendo oggi Borgo Novo, ma soprattutto già ieri mattina se ne era accorto benissimo sul mio sito, andatevelo a leggere, il pezzo che ha scritto Gervasoni sul sito nicolaporro.it è tutta una montatura fatta da una sardina, non c'è una donna nigeriana che è stata insultata in una sala d'aspetto di un ospedale di Sondrio, è tutta una balla, ma siccome quella balla la fanno le sardine, è una balla che ha grande seguito, oggi se una ragazzina fa così, ma è di sinistra Salvini mentre dorme, tutti zitti e muti, se ci si inventa una balla su una nigeriana che ha perso una bambina e che tutti la insultano e che è totalmente falso, bene quella roba lì sui giornali, ieri ha una grande eco, oggi nessuna nel raccontare che è una falsità, tranne Borgo Novo e vi racconto, punto, leggetevela questa bufa, la Daniera e Susanna, leggetevela sul mio sito dove Gervasoni vi dice che è una grande balla. Nel frattempo due pagine delle sardine oggi su Repubblica con questo artificio retorico evidentemente trovato dal Mattia, quello che scrive per il giornale Di Clò, ex ministro e amico di Prodi, dice tante il 14 dicembre eravamo quattro trentenni come tanti altri, no, eravate quattro trentenni che hanno avuto un grande successo nel riempire le pazze e che siete pieni della vostra inutile ingordigia mediatica perché io ho letto due pagine e non ci ho capito nulla, eravamo un fenomeno mediatico di portata internazionale, si autocelebrano il 14 novembre con questa specie di retorica che vi sembra un filmetto di Moretti, quando li leggi veramente capisci che sono i figliocci di Moretti e con quell'area garbata non c'è non sei un insulto qua, Mattia, toc toc, non ti sto insultando dicendo che sei un figlioccio di Moretti, sto dicendo quello che sei, cioè con questa faccia garbata sei figlio di quella tradizione là, una che dice eravamo un fenomeno mediatico di portata internazionale, ma porca puttana, tante ore di sonno perse e il portafoglio più vuoto, ma come scrivete direbbe Moretti, ma cosa dite? Tante ore di sonno, ma c'è questa specie di reducismo eroico, come se fossero i ragazzi dell'impresa di fiume, così si sentono a leggere queste due pagine, sono stati veramente bravi per portare tanta gente in piazza, però ragazzi calma, il bisogno di condiviso di tornare a sentirsi liberi, ma ragazzi il bisogno condiviso di sentire di tornarsi liberi, no, siete liberi già oggi, potete andare in piazza già oggi, potete dire qualsiasi cosa a Salvini già oggi, potete hissare sul palco una ragazza islamica col velo che il cui marito dice che Israele è peggio dell'Isis e tutti zitti e muti, quelli che vi sono amici con qualcuno che magari vi dice toc toc, Hamas è una roba terroristica con cui flirta quel ragazzino, quel signore, no? Questo vi può dire, Ricolfi oggi, straordinario intervistato di Italia Oggi, rimette un po' le cose a posto, perché basta leggere queste due pagine delle sardine, lo capite bene, e perché rimette le cose a posto? Perché il popolo purtroppo non sta con loro, sta ancora con Lega e Salvini che sono i loro principali obiettivi di dileggio, e non sta con loro proprio per il modo in cui scrivono, per quello che dicono, per quella borghesia che loro rappresentano, che è una borghesia chiaramente e legittimamente non sovranista. Beh, altra cosa, c'è un poco tempo perché abbiamo parlato troppo, ma quella di oggi è straordinaria, l'intervista a Nogarin, ora vivo in povertà, è il titolo sul fatto quotidiano, 40.000 euro che gli dà il ministero d'Inca di consulenza, e lui piagnucola sul fatto che vive di povertà. Toc toc, Nogarin, ma voi avete capito chi eravate? Cioè voi non siete come me, io sono quello che si vorrebbe bere una boccia de cristal, voi siete i 5 stelle, e se vive di povertà un 5 stelle che si prende un contrattino? e si candida a diventare presidente del porto di Gioia Tauro, e che è stato, tra l'altro, by the way, secondo i vostri criteri, impresentabile perché è indagato, è imputato per concorso in omicidio colposo, sono morte 8 persone per l'alluvione, per me lei è un ingegnere innocente, ma è la vostra gogna che ha fatto sì che voi siate impresentabili se imputati, soprattutto per quella roba là. E oggi vi viene a dire sul fatto quotidiano, ora vivo in povertà, ma rispetto verso i vostri elettori, non verso i miei, verso i vostri elettori. Coca Cola nel frattempo, per rispetto nei confronti dei suoi azionisti, dice che in questo paese se continuano a mettere tasse investirà molto di meno. Accordo PD-Movimento 5 Stelle, infine perché la riforma della giustizia parta, il primo riforma della giustizia, ma da che la prescrizione parta dal primo gennaio, nel frattempo le intercettazioni saranno più o meno vagliate, è un accordone, io ti do un po' di intercettazioni e io ti do la prescrizione. Vantaggio per gli italiani? Zero. Svantaggio per gli imputati? 100.000 e per noi cittadini liberi in questa, come dice pane bianco, repubblica giudiziaria, sarà un passaggio lento e inevitabile all'inferno del penale, per cui tutto si risolve con quel codice là. Beh, non hanno vergogna, dice qualcuno di voi, Nicola ricordate che l'Ocean Viking rimase dieci giorni, dieci giorni in attesa di sparcarsi durante giusto le elezioni, cioè quando aspettavano dieci giorni con la Morgese non è sequestro di persona, quando lo fanno con Salvini lo è perché lui dà un preciso ordine di non farlo, mentre lì gli ordini non sono precisi, ma evidentemente sono contrattati. Bene, non investirai mai più la Coca-Cola, spero di no, un abbraccio Cristiana, troppa Beppe, apprezzo la tua obiettività e la tua correnza ideologica, speriamo che sia così per tutti voi, io vi do appuntamento sul mio sito nicolaporro.it, leggete la bufala di Sondrio col pezzo di Gervasoni, ma tante altre cose. Ciao!